ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi farò un'altra lezione di canto si dove registrare stamattina avete ragione ma purtroppo cosa è successo non ho avuto tempo e si vedete comunque distacco collo perché ho fatto sezzona e perché ho fatto la sello week su instagram mi tengo a giudice vi iscrivo sempre i miei contatti qui sotto instagram facebook snapchat tiktok eccetera seguitemi e se vi piace questo video iscrivetevi al canale attivate la campanellina solo se avete voglia e commentate per vedere commentate appunto se vi piace questa lezione di canto perché oggi è l'altra lezione di canto e vi parlo delle note maggiori e le note minori questa lezione di canto è appunto è molto più pratica però io vi spiegherò due piccole nozioni allora quando ci sono le note diciamo maggiori quindi praticamente appunto che fanno cioè che hanno così oppure posso fare un esempio la canzone di sette lanni biancaneve è comunque una canzone molto allegra mentre le note minori ci sono molte canzoni molto più tristi più demotivate allora non me ne viene in mente neanche una per esempio buongiorno tristezza è una canzone triste quindi le note sono minori infatti ricordiamo di questo quando le canzoni sono un pochino più allegre come il giorno mi fiore qualsiasi canzone allegra che ha un ritmo più non posso dire più tanto appunto più allegro la canzone è allegra anche se significa il testo può essere triste però la musica è allegra nel momento che c'è una musica molto più triste anche se si finisce significato come detto prima è allegro però comunque triste e va interpretata interpretata in modo malinconico ma sì quel modo da allora questo è quello che volevo dire a questo punto una piccola nozione che io studiai accanto delle note maggiori e minori che appunto si prendono attraverso un pianoforte io non ho un pianoforte però ci sono questo per farvi capire che quando per far capire la canzone che ha un ritmo più diciamo sgargiante è una canzone con ritmo più ritenuto più ritenuto più calmo più triste ok non so come spiegarlo però che comunque va interpretato in un certo modo e poi man mano appunto vedremo cos'è l'interpretazione come si interpreta una canzone e poi vedremo altre cose ancora perché è vero che siamo agli sgoccioli cioè siamo all'ultima lezione di canto però ce ne sono altre tre o quattro che dovrò fare bene ragazzi questa bellissima lezione di canto finisce qui io vi saluto iscrivetevi appunto al mio canale youtube e tutti i canali che vi lascio qui giù nell'info box e ci vediamo in un prossimo video ciao